Commenta il fatto del giorno Paolo Colombo, storico. Oggi ho scelto di parlare di Kennedy e del coraggio. Kennedy sostengono in molti diventa un mito più per la sua morte che per la sua vita. Vero, ma solo parzialmente. Kennedy continua ancora oggi a esercitare un'attrattiva straordinaria anche per la forza delle sue parole, che furono spesso pronunciate con credibilità. Fu un uomo politico che seppe comunicare coraggio al di là dei moltissimi limiti e difetti. Il 9 gennaio 1961, poco prima di insediarsi come presidente, pronuncia queste parole. La storia non giudicherà le nostre azioni, né un governo può essere scelto, unicamente in base al colore o al credo politico o anche alle affiliazioni di partito. D'altronde la competenza, la lealtà, il prestigio personale, pur essendo estremamente essenziali, non saranno bastevoli in tempi come questi, che a chi molto è stato dato, molto sarà richiesto. E quando in qualche tempo futuro il Tribunale della storia siederà per giudicare ciascuno di noi, soppesando se abbiamo meno assolto alle nostre responsabilità verso lo Stato, la misura del nostro successo o del nostro insuccesso sarà data dalla risposta a quattro domande. E la prima è, fumo noi veramente, uomini di coraggio? E non si riesce di questi tempi a non provare almeno un poco di nostalgia per parole simili.